Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere questo non è un video molto particolare poiché è un video annuncio importante dato che ho deciso di cambiare canale e non vi spiegherò perché ho cambiato canale appunto in questo video ma bensì nella presentazione, nella nuova presentazione ovvero il primo video che uscirà credo oggi o domani. Quindi ci si becca lì, vi lascerò il link in descrizione di questo nuovo canale, mi raccomando passateci e iscrivetevi. Bella!